Omenia avrà la sua festa patronare. Come sarà è ancora in mea possibile da dire, ma l'assemblea svoltasi ieri sera presso il Cinema Oratorio ha confermato che San Vito non si fermerà. Ci sarà un nuovo presidente alla guida del comitato. Dopo le dimissioni di Massimo Nobili, che ha guidato negli ultimi due anni dal comitato, è stata individuata la figura di Valentino Valentini su indocazione di Don Gianmario Lanfranchini. In attesa di definire i contorni della festa, c'è da evidenziare la conferma della collaborazione con l'amministrazione comunale e con diverse associazioni cittadine. Confermatissimi il salotto di Diderot, organizzato in collaborazione con l'assessore alla cultura Sara Rubinelli, e di concerti di musica classica. Tutto il resto, come detto, è ancora in divenire, sia per quel che riguarda la cittadella del gusto, concerti ed eventi, mentre sembra difficile, per non dire impossibile, che ci siano i fuochi. Già cancellati lo scorso anno per i rischi legati al Covid e per i rigidissimi protocolli di sicurezza. La prima novità è la figura di Filippo Ardizi, direttore di Casa Mantegazza, che sarà il referente per la parte benefica della festa.